Siamo già in ritardo! Che cosa? Maya! Maya! Forza, Maya! Sei in ritardo! Dobbiamo sbrigarci! Maya non è mai troppo presto! Maya, sbrigati! Siamo arrivate in tempo! Ecco il tuo bagaglio! È il tuo pranzo! Oh, è il tuo biglietto! Wow, è tutto così bello qui! Non crederesti quanto si economica! Sono poche migliaia di euro! Ciao! Ciao, ragazzi! È così bello conoscervi! Ciao! Wow, sei bellissima! Accidenti! Beh, fa niente! Salve a tutti! Oh, sì! Io sono... Oh, ma dai! Tu devi essere Maya! Sì! Sono il presidente della scuola! Vieni, facciamo un giro! Bene, grazie! Questa è la tua nuova stanza! Sono sicuro che ti divertirai! Fai come se fosse a casa tua! Ciao! Wow, beh, ma quanto spazio! Un letto a castello! Ho sempre voluto dormire sopra! Wow, è così figo! Il tuo letto è questo? Ok! Sì, oh wow! Ok, vediamo! Oh no, questo non è... Non è affatto lussuoso! Quando è stata l'ultima volta che qualcuno ha usato questo letto? Beh, fa niente! Poteva andare peggio! Farò tardi! Oh, io... Buongiorno, ragazzi! Vi presento la nostra nuova studentessa, Maya! Ciao a tutti! Che orrore! Bene, lei è la nuova studentessa! Eccoti qua! Sono sicuro che piacerai a tutti! Puoi andare a segnarti adesso! Ciao! Mi chiamo Maya! Certo! Ciao! Posso sedermi con te? Scusa, è riservato qui! Oh, ok! Oh, ciao! Posso... Scusa, è riservato! Oh, ok! Ehi, Maya! Puoi sederti qui? Oh, bene! Grazie! Oh, che stupida! Non importa! È vero, oro! Non è tuo! Oh, ok! Che diavolo! Oh, questo dovrebbe essere... Oh, che cos'è questo? Voglio dire, per che cosa lo usa? Ecco come si usa! Ci leggi? Leggere! Ma non ha alcun senso! Non toccarlo, diventerai povera! Cosa c'è che non va con il mio libro? Maya, non ti serve! Tutto quello che ti serve è un laptop! Questo è per te! Ma non ho mai usato un MacBook! Non ne hai mai usato uno! Non è un problema! Ho il mio vecchio PC Windows! Eccoci qui! Eccoci! Ma che diavolo! Ora devo solo accenderlo! Ok, aspettiamo! Che cosa? Hanno già iniziato! Sul serio? Oh, poverino! Manca un minuto, ragazzi! Ci sono quasi... Quasi! Sì, finalmente si è acceso! Posso iniziare... Ok, ragazzi! Tempo scaduto! Mostratemi cosa avete fatto! Oh, bene! Sì, congratulazioni! Ok! Il prossimo! Oh! Si muove! Oh, è veloce! Brava! Sì! Io devo fare qualcosa in fretta! Presto, Maya! Presto! Pensa a qualcosa! Fai qualcosa! E cosa hai fatto, Maya? No, no, no! Una, per favore! Ma non è che ho facile di fare niente da sola! Cosa è successo? Hai preso un quattro! Il primo quattro della mia vita è comunque un contraguardo! Mi sento così diversa qui! Ciao, mamma! Ehi, Maya! Come stai? Com'è la nuova scuola? E il cibo com'è? Che ne dici del tempo? Ho sentito che piove, vero? Ti sei fatta dei nuovi amici? Sì, va tutto bene! Ho un... Oh! Oh, scusa! Ciao, mamma! Scusa! Scusa! A volte sono così goffo! Comunque, sono Chris! Ciao, Chris! Sono Maya! Il tuo stile è così unico! Sì! Bene! Il fatto è che sono nuova qui! Sono appena arrivata! Questo posto è davvero carino! Ti piacerà? Oh, scusa! Devo andare! Ci vediamo! Sì, è davvero un bel posto! Ciao, ragazzi! È ancora qui! Perché non mi accettano? È davvero tutta una questione di soldi! Pensavo davvero che sarebbero state più carine! Ciao, ragazzi! Oggi faremo un esperimento! Dovrete lavorare in coppia? Ma non ho nessuno con cui abbinarmi! Scusi, sono in ritardo! Posso? Sì, certo, Chris! Vieni! Grazie, prof! Ehi, Chris! Vieni a sederti! Ehi, Maya! Cosa sta facendo? Felice di vederti! Ciao, Chris! Oggi dovete trasformare una pianta da così a così! Vedete? Va bene, iniziamo! Sei sicuro? Aspetta, aspetta! È così gentile con me! Manca solo un minuto! Dobbiamo sbrigarci! Oh, no! Sì! Nemmeno io so fare una pianta così! Sì! L'abbiamo fatta! Siamo la squadra migliore! Non credo proprio! Ottimo lavoro! Vediamo quanto siete bravi come squadra dopo questo! Invia! Cosa? La nuova ragazza con Chris! Gliela faccio vedere! Tre, due, uno! Dov'è? Sì, e le foglie sono così grandi! Togliete di mezzo questa roba! Che stai facendo con Chris? È il mio compagno di scienze! Perché hai fatto questo al nostro progetto? Progetto? Dammela! Non sarai mai una di noi! Ma io non... Io... Non posso! Non voglio più farlo! Che drammatica! Sei stata una cretina, Kitty! Cosa? Stavo scherzando? È solo una piagnocoluna! Non capisco perché tutti sono così cattivi con me! Essere in questa scuola era il mio sogno! Ma ora è un incubo! Chiamerò la mamma! Voglio andare a casa! Ciao! Mamma, sono io! Ti voglio bene, mamma! Maya? Ma ci sei? Maya? Maya? Un concorso! Per essere la reginetta di bellezza! Posso partecipare? Posso... Forse è questo che mi serve per farmi accettare! Soprattutto se riesco a battere lei! Non dimenticherò mai quello che mi ha fatto! Finalmente sta addormento! Vincerò sicuramente questo concorso! Sono sicura che ha qualcosa per il concorso che posso usare! Ha così tante cose, non le dispiacerà! Ah! Sarò la più bella del concorso! E allora piacerò a tutti! Wow! Non devo svegliarla! Vediamo se funziona! Wow! Ha funzionato! Ok! Vediamo cos'altro posso fare per rendermi più carina! Ah! Sì! Il suo trucco stravagante è l'ultimo tocco di cui ha bisogno per vivere! Vincere! Cominciamo! È il mio oro! Lasciano! Wow! Ho sempre voluto usare il trucco stravagante! Ora l'ho possibilità! L'ho vista su TikTok! Solo un po' qua e là! Sì! Sì! E anche qui! E gli occhi! Ora vediamo il risultato! Ok! Ora devo creare l'intero look sulla pellicola! Deve essere perfetto! Sì! Sì! Ho finito! Questo farà di me la ragazza più bella della scuola! Ora devo figgiare delicatamente in modo che rimanga sul viso! Va bene! Vediamo! Wow! Quanto scintillio! Ora un ultimo tocco! Ora quale dovrei scegliere? Sì! Questo dovrebbe andare! Wow! Ora sembro ricca! Non puoi essere come una di noi! Bla bla bla! Oh! Ma per favore! Uno, due! Uno, due! E benvenuti a tutti al concorso di bellezza annuale di La La Scuola Sofisticata! Grazie! Sì! Sì! Vorrei presentarvi dei nostri concorrenti che includono la vincitrice dell'anno scorso Kitty e Maya, la nuova ragazza! Buona fortuna! Sì, grazie! Ne avrai bisogno! Non avrà alcuna possibilità, nemmeno la più piccola! Questo le insegnerà a non scherzare con me! Che rumbo! Maya, voglio essere tua amica! E questo è il mio modo per dimostrarti! Ok! Questi ti staranno benissimo! Grazie, credo! Oh, ragazze, siete diventate amiche! Sono così felice! Ok, mi godrò lo spettacolo! Buona fortuna, ragazze! Grazie a tutti i presenti! Sezza di voi in questo concorso non si sarebbe potuto organizzare! Grazie! Anche i nostri spossoli e a tutti gli altri che hanno contribuito a questo concorso di bellezza! Che lo spettacolo abbia inizio! Non posso credere che pensi di avere una possibilità! Vincerò io di sì! Come sempre mi amano! Le farò vedere io! Concentrati, Maya! Sarà bimba! Travolo! Ops! Oh, povera ragazza! E abbiamo la vincitrice! Muoviti, Maya! E la vincitrice è... Kitty! Sì! Grande, Kitty! Grande! Così? Ecco a te, Kitty! Di nuovo! Kitty! Kitty! Possiamo farci un selfie! Anche qualche volta, magari! Forse l'anno prossimo! L'anno prossimo, sì! Amo Kitty, ma voglio supportare Maya! Vediamo! Aspetta, cosa? Devo fare qualcosa! Non è giusto! Ma ho visto bene? Sì, ho visto bene! Questo è vergognoso! Non posso permettere che succeda! Congratulazioni! Sì! Ehi, Brasile! Oh, oh! Sono serio? Sì! Vai via! Cos'è questo? Non te lo sei veritato! Dammi tutto! Mi occuperò di te più tardi! Sono triste, ma suppongo che vada bene! Uno, due, uno, due! Ehi tutti! Abbiamo una nuova vincitrice! Ed è Maya! Oh, mio mio! Congratulazioni! Grazie mille! Ho creduto tanto in me stessa! Non posso credere a quello che mi stanno facendo! Dovrebbe! Non merita la corona! Ciao, Kitty! Ho creduto tanto in me stessa! Ciao, ragazzi! Maya! Maya! Grazie mille! Grazie mille a tutte! Se ne pentiranno! Congratulazioni, Maya! Grazie! Questi sono per te! Wow! Sono sorprendenti! Ti andrebbe di uscire stasera? Certo! Perché no? Ehi! Wow! Ah, sì! Dunque, attenzione a tutti quanti! Attenzione! Bene! Daremo il via al programma di scapio! E lo studente sarà... 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 Tu! Tu! Oh! Sì! Oh! Oh! Non posso credere ai miei occhi! Wow! La casa è enorme! Wow! Non vedo l'ora di conoscere il padrone di casa! Oh! Oh mio! È tutto vero! Quindi l'albero dei soldi è di te! Ti sei perso, signorina? Beh, bene, io vengo dal... Signora, le sto chiedendo di... Oh! Cosa sta succedendo? Eh? Non può essere! Oh! Non ci posso credere! È Scott! Benvenuta a casa mia! Ehm... Che cosa? Ho detto benvenuta! Fatti cinque! Ah! Oh! Ah! Oh! Scusa! Hey! Oh! Andiamo! Oh! Wow! Spettacolo! Wow! La sua giacca! Autodifesa! Oh! 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 Eh? Oh! Oh! Ti stai divertendo! Vieni! Ti faccio fare un giro! Oh! Oh! Sì, puoi andare. Sto bene. Questa è una delle mie stanze preferite. Guarda. Oggi è soleggiato. Prendi il sole nel fine settimana. Figo. Questa ti piacerà. Bene, andiamo. La stanza migliore di sempre. Adoro questa casa. Buon appetito. Che cosa? Buon appetito. Signorina. Signor Blue. Buon appetito. Quello cos'è? Sei sicuro? Questa è la mia specialità. Ok. Come si mangia? Ci provo allora. Dai. Dai. Quasi. Come si fa? Oh no. Ci sono. Maledette sbacchette. Ehi, fratello. Facci vedere cosa sai fare. Possiamo mangiare pasta. E' il suo turno. No, no. Ups. Che ne dici della pizza? Meno male. La ordinerò io. No. Il nostro aereo è pronto. Che cosa? Non può essere. Siamo in Italia. L'Italia ha la pizza migliore, no? Sì. Sono in paradiso. Wow. È bellissimo. Oh mio. Signorina, cosa ci fai qui? Ho trovato i miei detergenti. Grazie. Cosa intendi? Non può essere. Cosa sta succedendo qui? Bene, puoi andare. Il prossimo... Cosa? Ma non ho alcun soldo. Non bastano. Non bastano. Il prossimo... Che cos'hai, signorina? Scusa, io per favore mi fai entrare. Cosa? No, va via. Per favore. No, vai via. Questa scuola è solo per ricchi. Autodifesa. Stai bene? La via è libera. Di male in peggio. Sono qui. Oh, no. Che peccato. Oh, sì. Che cosa? Ragazzi, l'avete visto? Allergi. Quelle brutte foto mi hanno salvata. Adoro i paparazzi. Sì. Sì. Oh, accidenti. Come faccio a farmi notare? Oh, tu sei nuova. Non posso credere che mi stia parlando. Oh, hai visto il Forbes di oggi? Oh, eh. E' giù. Salute. Sono davvero dispiaciuto. Ehi, è tardi. Ok. Oh, non mi laverò mai più le mani. Oh, ehi. Niente calcoli alla scuola dei ricchi. Lui è il migliore Esatto, devo seguirlo su Instagram Marty, sei così bello Devo averlo E questi vestiti Ecco cosa mi serve Oh sì Non ci posso credere Marty, aspetta che mi trasformo Uno, due, tre Ecco, ti presento la nuova Jessie Alla moda Penso che tu abbia bisogno di uno stilista, signorina Che cosa? Ti faccio vedere io Wow Dunque, adesso cosa pensi? Ora penso che tu sia pronta, signorina Via Ehi, prendete Ehi, prendete Oh, che peccato Mi odiano L'odio porta odio Sei sicura di te sempre Wow, sei così fantastica Sei così fica Sei bellissima Ciao Che cosa? Oh, sei così feca Posso avere il tuo fotografo? Non adesso Che cosa? Oh sì Per favore Sai cosa fare? Certamente Scusatemi tutti Lo devo aggiornare È lui È lui È Scott È Scott Oh, anche Jessie sta bene adesso Perfetto Che cosa? Oh, niente Può fermarmi Sì? Stavo pensando di comprare questo diamante Oh, sofisticato Signorina Oh, ciao Jess Oh, grande Odio quei saluti da rapper Divertiti Che figura Ho bisogno di cibo Oh, questo cos'è? Oh, sarà commestibile Oh, chi mangia una cosa simile? Oh, il mio preferito Ma io ho fame Quello sembra buono Oh, questo sì che è cibo Buon appetito Oh, ciao Jess Dio mio Mi dispiace tanto Ma Addio Hai visto? Una postera Grande Oh, no Ehi, come possono essere così cattive? Oh, ora basta Non appartengo a questo posto Torno a casa Ehi, è tutto ok? Casa dolce casa Ciao Cosa stai facendo tu qui? Sì, vieni Ti faccio vedere in giro